Grazie a tutti. Nel tuo corpo e nel sangue versato, la tua offerta è riscatto per noi. Nel tuo corpo e nel sangue versato, la tua offerta è riscatto per noi. Nel tuo corpo e nel sangue versato, la tua offerta è riscatto per noi. Nel tuo corpo e nel sangue versato, la tua offerta è riscatto per noi. Nel tuo corpo e nel sangue versato, la tua offerta è riscatto per noi. Nel tuo corpo e nel sangue versato, la tua offerta è riscatto per noi. Nel tuo corpo e nel sangue versato, la tua offerta è riscatto per noi. Nel tuo corpo e nel sangue versato, la tua offerta è riscatto per noi. Nel tuo corpo e nel sangue versato, la tua offerta è riscatto per noi. Nel tuo corpo e nel sangue versato, la tua offerta è riscatto per noi.